Chiaramente per come era partita speravo almeno di arrivare in doppia citra, poi un pochino i problemi, un pochino comunque l'andamento altalenante della squadra ha ridimensionato i miei pensieri. Però comunque mi ritengo abbastanza soddisfatto visto le ultime due stagioni precedenti che comunque avevo giocato poco e avevo segnato ancora di meno quindi per quest'anno diciamo sono in crescita. Dato la stagione di due anni fa chiaramente uno pensando a questo punto della stagione dove ci troviamo adesso dice sicuramente potevo fare di più però dopo ti metti a riflettere e pensi i problemi di quest'estate, le nuove partite in 30 giorni, tutto quello che è successo durante la stagione comunque non abbiamo mai lavorato in piena serenità. C'è sempre stato qualcosa che ha un pochino caratterizzato l'andamento della settimana, della partita quindi su per giù siamo contenti ma non contentissimi sicuramente potevamo dare molto di più tutti quanti e di questo ne siamo consapevoli però comunque non siamo neanche al punto di dire no questa stagione è da buttare quindi comunque siamo contenti ma non contentissimi. Penso che comunque ho altri due anni di contratto e che io sto benissimo qui a terra poi quello che succede in sede di calciomercato chiaramente non posso dire che il resto è al 100% che vado via sicuro.